ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sul canale oggi andremo a creare delle lettere dell'alfabeto con questo stampo utilizzando la resina cristallè di reschimica e la resina uv di reschimica e se vi piace il video ricordatevi di mettere mi piace e iscrivetevi al canale allora queste due sono una prova fatta da mio figlio ora ho messo dentro questa l questa nota musicale e l'ho attaccata con la resina uv e la stessa cosa andiamo a farla nella v mettiamo un po di resina uv poggiamo la nota musicale sopra e poi andiamo ad asciugarla due minuti con la lampada uv ne ho messa poca perché voglio fare soltanto la base sotto trasparente un pochettino di base trasparente ho aggiunto dei glitter e dopo aver mescolato bene togliamo la palettina che mi serve e vado a pensare ed eccoci qua pronti per fare la parte posteriore ho messo la resina nei contenitori e ho messo il colore e adesso vado a mischiare entrambi i colori ho deciso poi di mettere su ogni lettera dei glitter a forma di coricino andiamo adesso a mettere nelle lettere la resina che poco fa abbiamo colorato dato che mi è avanzata un po della resina colorata ho deciso di fare anche una o mettendo dentro sempre la nostra chiave di violino e asciugandola con la resina uv e spennellando questa volta un po di glitter in alcuni punti della o per creare un effetto un po diverso è passata circa un'oretta e come vedete la resina si è spostata un pochino rispetto a come l'avevamo messa lasciamo asciugare comunque tutta la notte e vedremo domani i risultati e speriamo bene ciao ciao